Buon pomeriggio dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. In A1 code per traffico intenso tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione Roma. In A11 fare attenzione per una perdita di carico avvenuta tra Prato Ovest e Pistoia in direzione Pisa. Lavori segnalati nel tratto compreso tra Massarosa e Lucca-Sandonato in entrambe le direzioni. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata tra Poggi Buonsi e Cole Valdelsa Sud in direzione Siena. Sulla tangenziale di Siena chiusi per lavori gli svincoli di Siena Nord e Acqua Calda. Sulla statale Trebis-Tiberina riduzione di carreggiata per lavori tra Val Savignone e Canili in direzione Ravenna. Morsi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!